Ci sono cose che naturalmente è impossibile che io riesca a fare in questo poco tempo, è normale, però è normale con l'accetto. È difficilissimo, è troppo difficile. Allora, questo è un video messaggio per lei, carissima maestra Alessandra Cerentano. Volevo dirle che io ci proverò a fare tutti quei giri che ci sono nella coreografia, ho visto giri alla seconda, giri, solo giri. Siccome è un punto sul quale devo migliorare, anche perché me l'ha detto nella lettera, con mani, giri, quelle cose là, io ci provo a farlo. Però se è possibile avrei una richiesta di modificare magari quei giri alla seconda, naturalmente io ci metto tutto l'impegno di questo mondo per fare i giri alla seconda che mi ha fatto vedere. La sua risposta è già scontata, però a me farebbe un sacco piacere. Grazie per tutti i consigli e tutti i commenti positivi che mi fa quotidianamente. Un bacio.